Alla fine del 2020 abbiamo incontrato tutti i sindaci del nostro comprensorio. In alcune zone è emerso con forte la necessità di portare avanti i lavori di rimozione dei sedimenti dai corsi d'acqua per ripristinare il regolare deflusso delle acque. A tutti gli amministratori abbiamo parlato di questa problematica e abbiamo chiesto un aiuto per individuare nel comprensorio più siti possibili dove poter allocare queste terre. Arriva così adesso un patto per la gestione dei sedimenti. Il comune di Terra Nuova Bracciolini, socio di maggioranza della CSAI, proprietario dell'impianto di discarica di Podere Rota, si è infatti reso disponibile a trovare una soluzione. Un intervento che permetterà di efficientare l'azione del consorzio, sia da un punto di vista proprio in termini economici perché avrà una disponibilità più ampia ancorché siano sempre le stesse risorse a disposizione e l'altro aspetto è quello che permette di ottimizzare all'interno dei corsi d'acqua una manutenzione che è sempre più necessaria per far sì che i nostri territori siano sicuri. La soluzione ha dunque la forma della convenzione sottoscritta nella sede del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Per noi è un tassello nell'ottica dell'economia circolare per cui il materiale che ci verrà dal consorzio verrà quasi interamente recuperato e riciclato proprio nelle attività ingegneristiche della gestione della discarica. Il patto avrà la durata di un anno ed offrirà la capacità di 15.000 metri cubi per accogliere le terre tolte dai corsi d'acqua, dando loro una nuova utilità. Saranno provenienti non solo dall'area valdarnese ma anche dalle altre parti del nostro comprensorio a dei prezzi particolari. Quindi credo che sia un accordo strategico per portare avanti i lavori del consorzio e per guardare sempre di più alla sicurezza dei nostri territori.